buongiorno a tutti siamo qua con giose ciccarelli a provare un'emozione unica volare in parapendio perché lo facciamo col team unimont perché far qualcosa in montagna fare cerca in montagna molte similitudini col parapendio volare libertà volare emozione mettersi in gioco e adrenalina l'adrenalina è importante tutto quanto ma essenziale il cambio di prospettiva il cambio di prospettiva è qualcosa che ti fa godere il territorio in un modo diverso e ti fa sfruttare tutte le potenzialità che può dare abbiamo scelto di volare con giose perché è un giovane imprenditore che ha presentato un'idea di impresa nel 2015 con fondazione garrone per una startup innovativa e in cui unimont è sempre partner importante e centrale nella formazione sia dei giovani imprenditori che nel percorso universitario per la formazione di ragazzi che poi valorizzeranno la montagna siamo qui siamo qui per provare un'emozione unica e lo dedichiamo a una persona alida che tra poco compie gli anni che non è più tra noi ma in realtà lo è sempre perché ha contribuito a far diventare partire l'impresa coraggiosa dell'università della montagna volare vuol dire anche avere delle basi forti vuol dire avere un istruttore preparato per poter affrontare tutto quello che è un percorso verso un giovane imprenditore verso un team che cerca di fare ricerca in montagna sempre con la stessa logica avendo una prospettiva diversa legge il territorio in modo diverso e cerchi di valorizzarlo ad oggi supportiamo la territorialità la biodiversità ci stiamo occupando sia di zafferano che di miele fino alla cannabis terapeutica facendo che cosa mettendo in campo grinta emozione adrenalina ecco perché vogliamo veicolare questo messaggio con un volo in parapendio in ultimo voglio fare una dedica a te alida perché questo volo sia dedicato a te e a non dimenticare mai che per arrivare in vetta ci vuole tutto ciò grinta in primis per cui andiamo tutti in vetta con questa felpa con questo logo con quello che siamo noi pronti a partire infatti lo dice lo slogan siamo pronti ad andare in vetta a questo punto grande emozione l'istruttore cede assolutamente preparato faremo si spera altri voli e io possono altro che chiudere con i pip unimont 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 lo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.